A noi rimangono dei dubbi, visto che le persone che erano di turno qui a presidiare i cancelli non possono non aver sentito un mezzo di quella dimensione allontanarsi. Visto che comunque hanno sentito il cigulio dei cancelli, è improbabile che non abbiano sentito altro. I lavoratori in presidio ormai da mesi dinanzi ai cancelli dello stabilimento OM Carrelli alla zona industriale di Modugno non credono all'ipotesi del blitz. È vero, anche la notte scorsa erano stremati dalla fatica e dal caldo per l'ennesima notte di presidio ma di un camion carico di sedili e cruscotti che oltrepassava l'ingresso dell'azienda certamente si sarebbero accorti e a questo punto i sospetti continuano ad alimentare i tarli nei pensieri dei dipendenti. Forse l'azienda voleva provocare la loro dura reazione per creare nuovi dissapori o forse c'è dell'altro che in queste ore i lavoratori stanno cercando di capire insieme con i sindacati. Resta il fatto che la via Crucis, cominciata due anni fa per i dipendenti della multinazionale tedesca Kion, continua. Ora più che mai, visto che l'azienda già dalle scorse settimane ha confermato di non voler più anticipare la cassa integrazione. Un bel danno per i lavoratori che ora sono nelle mani dell'Inps e dovranno aspettare fino a metà settembre per capire se e quando riceveranno un po' di soldi. Intanto in queste ore l'attenzione è risalita al punto che i lavoratori in presidio hanno deciso di vigilare con più attenzione dinanzi ai cancelli dell'azienda, notte e giorno. Noi abbiamo già organizzato i turni in modo tale da rafforzarli e abbiamo anche aumentato le ronde, visto che si usano anche cancelli che non sono di proprietà aziendale per far uscire i camion.